Tentativi di truffe ad anziani a Campobasso è stata la reattività delle vittime a far sì che i raggiri non si siano concretizzati. Nel giro di pochi giorni diversi gli episodi con truffatori che si sono presentati come falsi funzionari IMSS tentando di farsi dare denaro per pratiche di pensione sospese, invitando gli anziani dai quali erano andati a casa a presentarsi agli sportelli di previdenza sociale per definire il tutto. In almeno tre casi protagonista un uomo descritto come alto, brizzolato, robusto e ben vestito con una camicia blu il quale ha agito in via 24 Maggio, via De Pretis e via Piave. Qualche giorno prima erano state due donne ad effettuare un tentativo di truffa simile spacciandosi come addette alle pulizie. Le vittime però hanno subito chiamato il 113 e sul posto è arrivata la volante. Hanno in sostanza messo in pratica quanto ripetuto nelle diverse campagne antitruffa realizzate sul territorio dalla polizia. E polizia e IMSS collaborano attivamente per evitare i raggiri. Infatti ricordano che nessun ente invia propri dipendenti a casa dei cittadini a chiedere informazioni o per ritirare denaro. Inoltre invitano a non aprire la porta sconosciuti anche se vestono un uniforme o dichiarano di appartenere alle forze di polizia e mostrano un tesserino. Le forze di polizia infatti si presentano a casa solo se si è richiesto un intervento. Spesso i truffatori contattano le vittime a telefono raccontando di finti incidenti stradali subiti da un familiare non coperto da assicurazione e annunciano di inviare qualcuno a ritirare il denaro per coprire i danni del finto incidente. In ogni caso è bene verificare chiamando il 113 o mettendo al corrente un familiare. Ci sono poi quelli che si fingono dipendenti Enel, IMSS, impiegati del Comune, assistenti sociali, i quali con la scusa di dover riscuotere cartelle sattoriali, controllare contatori del gasso della luce, posizioni contributive o pensionistiche, si fanno consegnare soldi e spesso approfittando di distrazioni fanno entrare in casa complici per rubare. L'invito da parte della polizia, soprattutto agli anziani, dunque è di non esitare a chiamare il 113.